Musica Rottura tra Greco e Italia Viva, Malluzzo ha presentato le dimissioni al culmine di una settimana di polemiche tutte legate al servizio rifiuti e all'attuale situazione del decoro urbano in città, la mossa la fanno i Renziani di Italia Viva l'assessore all'ambiente Cristian Malluzzo avrebbe presentato le dimissioni, la lettera sarebbe già sul tavolo dell'avvocato greco l'assessore Renziano questa mattina sta comunque partecipando alle attività istituzionali che aveva in programma sarà adesso il primo cittadino a valutare il da farsi Civici si continua con Greco, regionali scelta sui temi, la scorsa settimana i civici di una buona idea hanno fatto il punto politico si prosegue nel progetto del sindaco e sulle regionali si opterà per un candidato che sostenga alcuni temi strategici Montelungo torna il branco, randaggi aggrediscono papà e figlio si sono trovati davanti a un branco di randaggi, almeno sette cani che hanno tentato di aggredirli a Montelungo a segnalarlo sui social l'imprenditore David Melfa che proprio a Montelungo ha avviato una propria attività era insieme al figlio e fortunatamente è riuscito ad evitare l'aggressione pare che il branco si muova proprio all'interno di Montelungo e spesso è stato visto anche lungo il tratto di spiaggia SRR, assemblea per i nuovi assetti, si terrà alla fine del mese l'assemblea della SRR4 che dovrà definire i nuovi assetti organizzativi dopo la mancata rielezione del presidente Filippo Balbo entreranno in assemblea due nuovi sindaci mentre Timpazzo è ancora sotto pressione con i conferimenti ulteriori Un torneo di padel per ricordarsi di donare si è svolto ieri al centro sportivo Pignatelli un torneo di padel organizzato dalla FIDAS con lo scopo di ricordare ai cittadini di donare il sangue l'evento ha ricevuto tante adesioni e a partecipare sono state 12 coppie miste e non Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale in apertura alla politica al culmine di una settimana di polemiche tutte legate al servizio rifiuti al decoro della città la mossa la fanno i renziani d'Italia Viva l'assessore all'ambiente Cristian Malluzzo avrebbe presentato le dimissioni la lettera sarebbe già sul tavolo dell'avvocato greco l'assessore renziano questa mattina sta comunque partecipando alle attività istituzionali che aveva in programma sarà adesso il primo cittadino a valutare il da farsi Alla fine il divorzio è arrivato già da domani Cristian Malluzzo non dovrebbe più far parte dell'aggiunta greco al culmine di una settimana di polemiche tutte legate al servizio rifiuti e all'attuale situazione del decoro urbano in città la mossa tanto annunciata la fanno proprio i renziani d'Italia Viva l'assessore all'ambiente Cristian Malluzzo avrebbe di fatto presentato le dimissioni pare che sia già stato informato lo stesso sindaco Lucio Greco che negli scorsi giorni aveva spiegato senza troppi giri di parole che non ci saranno variazioni sulla linea amministrativa e che per il servizio rifiuti non si andrà nuovamente incontro al rischio di costi aggiuntivi i renziani hanno proposto un atto di indirizzo con alcuni accorgimenti rispetto a quello che risaliva addirittura lo scorso anno ma in giunta non sono emerse le condizioni per l'approvazione un atto nel quale Malluzzo e il partito hanno sintetizzato tutti gli interventi da mettere in campo per migliorare la pulizia della città senza costi aggiuntivi hanno detto più volte la lettera di dimissioni sarebbe già sul tavolo dell'avvocato greco Malluzzo questa mattina sta comunque partecipando alle attività istituzionali che aveva in programma sarà il primo cittadino a valutare il da farsi ma la rottura sembra ormai inevitabile sembrava che si potesse tentare la via difficile di un punto di incontro ma per il momento le strade potrebbero dividersi salvo altri ripensamenti senza Italia Viva rimarrebbe scoperto uno dei settori cardine in municipio mentre domani sulla situazione di Timpazzo a Palazzo di Città arriva la commissione regionale antimafia per un giro di audizioni con l'addio di Malluzzo e la rottura con i renziani il sindaco dovrebbe adesso individuare altre soluzioni potrebbe forse concretizzare eventuali intese esterne magari chiedendo l'appoggio di partiti attualmente fuori dall'amministrazione oppure optare per soluzioni interne tra i propri alleati della prima ora prima naturalmente bisognerà attendere l'ufficialità del divorzio che dovrebbe arrivare già domattina ma ormai sembra certo che l'arcobaleno di Greco si appresti a perdere l'ennesimo colore un colpo che non influirà sulla maggioranza in consiglio comunale dove renziani non hanno neanche un consigliere ma che sicuramente influirà sull'equilibrio della giunta e sulle prossime alleanze anche in vista delle eminenti regionali e la scorsa settimana i civici di una buona idea hanno fatto il punto politico si prosegue nel progetto del sindaco sulle regionali si opterà invece per un candidato che sostenga alcuni temi strategici nonostante gli ormai periodici fronti di crisi che si aprono nella giunta del sindaco Lucio Greco l'area civica è una delle sicurezze politiche dell'avvocato dato che gruppi come Una Buona Idea e Impegno Comune non hanno mai fatto mancare il loro rapporto neppure nei momenti più difficili sono stati proprio i civici a chiedere con insistenza una verifica politica che al momento però non si è ancora concretizzata mentre i renziani hanno alzato il tono della polemica interna entrando in netto dissenso con la linea del sindaco sul servizio rifiuti proprio i civici di Una Buona Idea la scorsa settimana hanno fatto il punto della situazione sono stati affrontati più temi politici così fanno sapere il segretario Rino Licata e consiglieri comunali il vice sindaco Terenziano Di Stefano e gli esponenti del movimento non mettono in discussione il proseguo del loro percorso con il progetto del sindaco Lucio Greco anche se bisognerà comunque valutare strategie e sviluppi le prossime amministrative sono ancora lontane ma si ragiona anche in una prospettiva più ampia allo Stato per i civici diventa fondamentale concretizzare i progetti e i finanziamenti cospicui che l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere anche attraverso l'operato del settore sviluppo economico affidato a Di Stefano agenda urbana, qualità dell'abitare e gli altri finanziamenti ministeriali rimangono imprescindibili per non incorrere nel rischio di tagli i civici hanno posto inoltre la questione delle royalties estrative per il progetto sul gas Argo Cassiopea l'investimento di Eniche però rischia di tagliare fuori il comune dalla ripartizione degli introiti più di una valutazione in atto anche sulle regionali il gruppo porrà dei temi che toccano profondamente il territorio così dice anche Di Stefano se ci saranno candidati locali che sceglieranno di sostenere questi temi e di farsene carico qualora venissero eletti allora avranno l'apporto del gruppo la scelta si farà anche in quest'ottica non si parte quindi da un'appartenenza strettamente di bandiera anche se lo schieramento sarà comunque un criterio di valutazione i civici vogliono rimanere fedeli a quello che è stato deciso tre anni fa non si schiereranno quindi con partiti rimarranno appunto civici la priorità va ai temi ma chiaramente il candidato dovrà anche far parte di uno schieramento che convinca il gruppo a partito dal presidente che sosterrà una buona idea nei tre anni di amministrazione il sindaco Lucio Greco ha confermato un ruolo di equilibratore interno mantenendo l'impronta civica che era la base dell'alleanza del 2019 ma che nel corso del tempo si è anche vestita dei colori di partito sono gli stessi civici fino ad ora ad aver assicurato una transizione senza strappi definitivi anche se i rapporti con i partiti che sostengono il sindaco non sono stati sempre dei migliori diamo uno sguardo al consueto covid report rimane sotto la soglia dei 600 contagiati il numero complessivo di positivi al covid in città in totale sono 588 nelle ultime 24 ore in base ai dati ASP i nuovi casi sono 23 e 30 i guariti un paziente gelese positivo al covid è stato ricoverato indegenza ordinaria la cronaca si sono trovati davanti un branco di randaggi almeno sette cani hanno tentato di aggredirli a Montelungo a segnalarlo sui social dell'imprenditore David Melfa che proprio a Montelungo ha avviato la propria attività era insieme al figlio e fortunatamente è riuscito ad evitare l'aggressione pare che il branco si muova proprio all'interno di Montelungo e anche sul tratto di spiaggia si sono trovati davanti a un branco di randaggi a Montelungo e solo per fortuna sono riusciti a evitare un'aggressione protagonisti della vicenda sono stati l'imprenditore David Melfa che proprio a Montelungo ha avviato una propria attività e il figlio Letto padre e figlio ieri pomeriggio avevano deciso di fare un giro in bici nella parte più alta della collina quando nei pressi del vecchio casolare di Roccato sono stati circondati da almeno sette cani che hanno tentato di aggredirli solo grazie alla pronta reazione di Melfa che si è aiutato agitando un bastone il branco si è disperso senza creare danni ma la paura per i due è stata tanta eravamo proprio qui a Montelungo in passeggiata con la bicicletta e girando proprio quest'angolo all'improvviso ci hanno attaccato almeno sette cani quindi in quel momento ovviamente grande paura da parte mia soprattutto perché avevo il bambino con me che a sua volta si è spaventato ovviamente però ho avuto la prontezza di riflessi di contraattaccare Melfa immediatamente ha segnalato l'accaduto sui social per informare i tanti frequentatori della zona pare che il branco si muova proprio all'interno di Montelungo e spesso è stato visto anche lungo il tratto di spiaggia mi sentivo lo scrupolo ovviamente di farlo sapere perché mentre io sono riuscito a risolvere il problema sappiamo che questi cani stanno presidiando questa zona di Montelungo anche dalla parte del mare e allora mi è venuto lo scrupolo non vorrei che qualcuno dovesse incappare nel problema e allora meglio dirlo ovviamente anche denunciarlo alle autorità competenti L'appello che vuoi fare all'amministrazione è quale? Allora io all'amministrazione non voglio fare critiche colpevolizzazioni perché già qua siamo nel regno del lamento e della retorica del non fare io dico dobbiamo trovare delle soluzioni perché nessuno ce l'ha con i cani anzi io per primo adoro gli animali i cani in primis però bisogna risolvere il problema perché ci possono essere conseguenze gravi quindi loro sono gli amministratori e loro devono trovare le soluzioni Il branco composto da circa sette cani adulti e diversi cuccioli si aggira nel parco da anni ormai ma è sempre riuscito a sfuggire alle gabbie degli accalappiacani un altro frequenta le mura timoleontè che proprio per questo motivo sono chiuse al pubblico da settimane inutili finora i tentativi di cattura l'idea dell'amministrazione per risolvere il problema è quello di cambiare l'approccio all'accalappiamento dopo il fallimento delle gabbie trappola c'è l'intenzione di rivolgersi a una ditta esterna che cattura i cani attraverso l'utilizzo di narcotizzanti Il procedimento di accalappiamento effettuato non ha avuto il risultato sperato abbiamo fatto una determina già lo scorso mese dove abbiamo affidato una ditta la porziungola che fa un tipo di accalappiamento con un fucile anestetico quindi attraverso questo procedimento noi ci agiremo nei punti nei sopralluoghi già effettuati con le nostre associazioni che ci danno sempre una mano provvederemo ad anestetizzare i cani randaggi verranno portati via per 15 giorni sterilizzati e poi riammessi nel territorio quindi noi ci siamo abbiamo già individuato quali sono i gruppi randaggi non sono tanti per la nostra città sono due gruppi che già sono stati individuati e quest'estate possiamo dire ai nostri concittadini tranquillamente non avremo più cani randaggi nel territorio a breve fiamme hanno danneggiato un magazzino in via Butera l'incendio si è sviluppato nella notte ci sono danni anche se non così gravi ai mobili e alla merce che pare sia riferibile ad un'attività commerciale gestita da cittadini romeni sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono in corso tutti gli accertamenti del caso nei pressi del magazzino ci sono anche altre attività commerciali non si esclude neanche un guasto l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse si terrà a fine mese l'assemblea della SRR4 che dovrà definire i nuovi assetti organizzativi dopo la mancata rielezione del presidente Filippo Balbo entreranno in assemblea due nuovi sindaci mentre Timpazzo è ancora sotto pressione con gli ulteriori conferimenti il riassetto della SRR4 si dovrebbe definire a fine mese in un periodo nel quale Timpazzo ancora una volta sotto forte pressione con i surplus di rifiuti che arrivano dal sito privato di Sicula Trasporti l'esito delle amministrative porterà a riorganizzare anche il vertice della società che sovrintende l'intero sistema locale dei rifiuti l'ex presidente della SRR Filippo Balbo è uscito sconfitto dalla competizione per il municipio di Butera il nuovo primo cittadino è Giovanni Zuccalà che entrerà a far parte dell'assemblea della SRR insieme al neosindaco di Sommatino Salvatore Letizia la riunione è stata convocata per fine mese dal vicepresidente SRR il primo cittadino di Mazzarino Vincenzo Marino in questa fase è lui che sta portando avanti l'attività vista l'uscita di Balbo che ha guidato il consiglio d'amministrazione verrà votata la surroga spiega lo stesso Marino all'ordine del giorno è prevista l'approvazione del bilancio Zuccalà e Letizia entreranno nell'assemblea prendendo il posto dei predecessori lo stesso Balbo ed Elisa Carbone sarà l'assemblea di individuare il terzo componente della CDA del quale continueranno a far parte sia Marino che il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri i tre componenti del consiglio d'amministrazione sceglieranno il nuovo presidente il sindaco Lucio Greco che sulla questione di impazzo più volte non ha condiviso la linea dell'ex presidente Balbo ha chiesto in diverse occasioni anche richiamando casi analoghi che il comune di Gela possa far parte della CDA non sembra comunque un'opzione che possa trovare attuazione per Greco Gela dovrebbe avere un ruolo nell'organismo decisionale trattandosi della città più grande di tutta la SRR4 sul cui territorio ricade l'intero sistema impiantistico ad iniziare dalla discarica a Timpazzo la prima assemblea della dopo Balbo è stata convocata a Mazzarino e sarà Marino in qualità di vicepresidente a coordinare questa fase transitoria la SRR dovrà tornare ad interfacciarsi con la regione che nelle ultime settimane ha nuovamente individuato Timpazzo per smaltire il surplus di rifiuti prodotto dall'area etnea in continua crisi Impianti SRR la società in house che gestisce la piattaforma integrata dopo un primo ricorso contro l'eliminazione del tetto massimo giornaliero di rifiuti conferibili ha scelto di proporre motivi aggiunti facendo leva sui rischi ambientali legati all'intensificazione dei conferimenti domani intanto la commissione regionale antimafia sarà in municipio per sentire Greco l'amministratore delle impianti Giovanna Picone i vertici delle SRR e i parlamentari ARS vogliono approfondire la situazione attuale della gestione di Timpazzo da Gela pare stessero facendo ritorno a Riesi quando furono intercettati dai carabinieri in auto i cugini Riesini, Salvuccio Correnti e Salvatore e Cristian Correnti avevano circa 6 kg di marijuana non appena si accorsero dei carabinieri forzarono il posto di blocco offrendo uno dei militari dell'arma gli stessi carabinieri esplosero colpi di pistola in aria per cercare di bloccarli i due furono rintracciati arrestati a Ravanusa nell'Agrigentino per quei fatti hanno patteggiato due anni e otto mesi di reclusione per Salvuccio Correnti e undici mesi con pena sospesa per Salvatore Cristian Correnti a marzo la Corte d'Appello di Caltanissetta ha emesso 12 condanne per i coinvolti nell'inchiesta antimafia extra fines le motivazioni non sono state ancora pubblicate i giudici hanno disposto una proroga a termine previsto un termine ulteriore per depositare le motivazioni che a marzo hanno portato in giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta a disporre 12 condanne per i coinvolti nell'inchiesta antimafia extra fines i magistrati di secondo grado hanno formalizzato la decisione che gli consentirà di avere uno spazio temporale maggiore per definire le ragioni delle loro conclusioni rispetto ad un procedimento assai complesso collegato ad una maxi indagine che ha fatto leva sulla riorganizzazione del gruppo Rinzivillo e sugli affari in diversi settori che sarebbero stati obiettivo di aziende vicine ai clan in appello la condanna è stata pronunciata anche per l'imprenditore Emanuele Catania 6 anni e 8 mesi di reclusione a fronte di una richiesta della procura generale di 10 anni i giudici del collegio penale del tribunale di Gela in primo grado avevano deciso per l'assoluzione secondo le accuse l'imprenditore alla testa di un importante gruppo aziendale che opera nel settore ittico avrebbe avuto rapporti con il boss Salvatore Rinzivillo in appello la difesa sostenuta dall'avvocato Giacomo Ventura ha escluso qualsiasi collegamento tra Catania e Rinzivillo i giudici hanno deciso per la condanna lo stesso imprenditore ha parlato di una totale assenza di legami anche commerciali con Rinzivillo e si è difeso nel corso del giudizio assolto invece Giuseppe Licata titolare di ditte di automezzi anche per la sua posizione c'era stata l'impugnazione della procura a seguito di un'assoluzione di primo grado la difesa sostenuta all'avvocato Flavio Sinatra ha ribadito l'assenza di elementi che potessero collocarlo nell'orbita della clan Rinzivillo sono state confermate le condanne a crocifisso Rinzivillo 30 anni di reclusione in continuazione con precedenti verdetti Umberto Buongiorno 6 anni 8 mesi 12 anni di reclusione per Rosario Cattuto mentre la difesa sostenuta all'avvocato Riccardo Balsamo ha presentato anche in appello una serie di conclusioni che hanno messo in dubbio il legame tra l'imputato e il gruppo Rinzivillo 6 anni 8 mesi a Francesco Maiale 6 anni 8 mesi ancora a Vincenzo Moulet 7 anni a Luigi Rinzivillo 6 anni a Giuseppe Rosciglione 10 anni 8 mesi ad Alfredo Sant'Angelo per la posizione di Antonio Maranto difeso dall'avvocato Roberto Salerno i giudici di appello hanno riconosciuto le attenuanti generiche riducendo la condanna a 6 anni 8 mesi detenzione in primo grado era stata di 8 anni ci sono state variazioni anche per gli esercenti Angelo Giannone 8 anni e 1 mese e Carmelo Giannone 12 anni e 4 mesi con il riconoscimento della continuazione per Antonio Rinzivillo fratello della 60enne Salvatore Rinzivillo i giudici di appello hanno riconosciuto la continuazione con condanna a 30 anni detenzione secondo gli inquirenti gli ergastolani Antonio Rinzivillo e il crocifisso Rinzivillo avrebbero autorizzato la nuova reggenza della famiglia di mafia affidandola al fratello Salvatore Rinzivillo imputato in un altro filone processuale i giudici di appello in attesa del deposito delle motivazioni hanno prorogato il termine per le misure attualmente imposte agli imputati ancora la cronaca se non fosse tornata insieme a lui l'avrebbe sfregiata i poliziotti del commissariato hanno eseguito una misura nei confronti di un uomo accusato di stalking e danni dell'ex compagna ora ai domiciliari ci sarebbero state più volte minacce la donna sarebbe stata seguita e sottoposta a continue pressioni anche attraverso messaggi intimidatori lei ha denunciato ma lui le avrebbe imposto di ritirare la denuncia nel tempo le segnalazioni e le forze dell'ordine sono state ripetute si è svolto ieri al centro sportivo Pignatelli un torneo di padel organizzato dalla FIDAS con lo scopo di ricordare ai cittadini di donare il sangue l'evento ha ricevuto tante adesioni a partecipare sono state 12 coppie miste e non si è svolto ieri presso il centro sportivo Pignatelli il torneo di padel FIDAS Gela l'evento è stato organizzato proprio dall'associazione di donatori con il patroginio dell'opera Pia Principessa Pignatelli di Roviano e con la lata Maurizio Nicosia è un torneo che comunque ha raccolto tantissime adesioni c'è tanto entusiasmo tantissima gente come vedete ci sono tanti ragazzi che hanno partecipato e questo mi fa piacere perché comunque la solidità è anche donna e loro dimostrano chiaramente venendo a trovarci spesso e volentieri nel nostro centro di raccolta di vita di appennini numero 5 questo vuole essere un torneo dell'amicizia un torneo della passione verso lo sport e attraverso lo sport trasmettere anche il messaggio del dono tra di loro ci sono tantissime donatrici mi auguro che guardando queste immagini possano esserci anche altre donne che si possono avvicinare al gesto del dono del sangue così come anche tanti altri ragazzi questo torneo è una buona iniziativa fortemente evoluta sia dall'associazione Italasse Amici che dalla FIDAS così che possiamo attraverso lo sport sensibilizzare l'agenda al dono visto che nel periodo estivo le donazioni vanno in calo e vogliamo tramite lo sport raccogliere quelle sacche che consentono a tutti i pazienti talassemici leucemici ongologici e quant'altro di poter passare un'estate molto più tranquilla adesso hanno preso parte 12 coppie miste e non senza alcun limite di età o di livello tecnico qual è quindi lo spirito con cui state affrontando questo torneo è la vita lo sport stare un pochino anche insieme e divertire questo è importante noi sappiamo che chi ama lo sport ama prendersi cura del proprio corpo e prendersi cura del proprio corpo e stare bene è la prima delle condizioni che sono necessarie per poter diventare dei donatori e noi vogliamo gente sana vogliamo gente che ama prendersi cura di sé gente che si vuole bene e che soprattutto vuole bene il prossimo perché donare sangue significa volere bene ma ancora di più amare il prossimo come se stesso reputo che lo sport sia il mezzo migliore per sostenere e promuovere enti benefici come come la FIDAS e speriamo in futuro di poter organizzare altre manifestazioni di questo tipo da cosa è nato allora questo torneo? questo torneo è nato dall'idea di Enzo Emanuello di appunto organizzare un torneo per promuovere la FIDAS e quindi attraverso lo sport dare anche un segnale di positività all'evento era presente uno stand con volontari della FIDAS che hanno promosso l'associazione attraverso la distribuzione di Gadget Bari alla fine dell'evento sono stati consegnati premi per la coppia vincitrice del torneo e per quella che si è distinta per simpatia lo sport ancora fulminaccia il sereno all'interno della dirigenza del Gela si è dimesso il direttore generale Salvatore Spadaro in aperto contrasto con la società il direttore sportivo Cammarata è stato lo stesso Spadaro a comunicare la decisione parlando di insanabili incomprensioni inerenti non solo nelle scelte di mercato ma anche organizzativa e generali l'ormai ex direttore generale lascerà anche la società secondo alla foto finish terzo nella classifica definitiva nella pista del sole di Villasmundo a Siracusa sede del settimo appuntamento del campionato regionale carta AC Sport nella categoria 60 mini Matteo Bagnato dimostra di avere talento da vendere sia nel giro secco che in bagarre il giovane pilota gelese è portacolori del team Castorina Racing ha saputo interpretare bene l'insidioso tracciato a retuso lottando sempre per la posizione del vertice il bilancio è di un secondo e terzo posto in gara 1 in una battaglia 3 solo 90 millesimi hanno negato la vittoria a Matteo Bagnato e al suo team al suo team motorizzato KR è tutto il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it adesso vi lascio alle previsioni meteo grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie a tutti grazie a tutti